Dopo 10 anni di attività il nostro brand BD Design si è affermato in tutto il mondo e per celebrare al meglio questo importante traguardo a ottobre 2015 abbiamo deciso che è raggiunto il momento di dare un forte segnale sul mercato creando un prodotto nuovo completamente da zero che potesse esprimere al meglio l'eccellenza italiana in termini di stile di design di innovazione e soprattutto di originalità su queste basi è nato il progetto a scari che ha visto un team di professionisti collaborare per ben sei mesi con il fine di creare una nuova carrozzeria da touring 190 mm come per la sua creazione anche lo sviluppo in pista ha richiesto mesi testata sia indoor su diverse tipologie di moquette ma anche outdoor su tipi di asfalto diverso e tipologie di piste diverse la carrozzeria scari rappresenta una nuova realtà per tutti i piloti nel mondo che competono ai massimi livelli che pretendono dai loro modelli il massimo della potenzialità il massimo della performance durante la fase di progettazione ci siamo focalizzati non solo su un discorso puramente estetico ma superficie forme sono state appositamente studiate per ottenere la performance massima il risultato non è solo una carrozzeria incredibilmente realistica come per esempio nel posteriore l'aver eliminato i supporti alettone ci ha consentito di creare un posteriore pulito dal look più realistico inoltre la parte frontale genera un grande carico aerodinamico e questo consente ingressi in curva molto veloce una percorrenza molto veloce e scorrevole la parte posteriore invece garantisce un ottimo bilanciamento di guida grazie soprattutto a nuove forme dell'abitacolo che direzionano il flusso d'aria verso l'alettone posteriore in maniera ottimale abbiamo voluto implementare anche il kit adesivo inserendo non solo una fascia tricolore ma aggiungendo anche un pretaglio così che gli adesivi siano più facili da applicare colori metallizzati stampa di alta qualità per ottenere un look davvero accattivato il vero stile italiano scende in gara ci vediamo in pista a Grazie a tutti